Io sono Viola, faccio parte del gruppo Z Debug, sono un agente di sviluppo locale e un urbanista e lavoro tra Pavia e Milano. Sono Mohamed, vengo da Vicenza e sono del team IZILON IoT e studio Ingegneria Mechatronica all'Università di Padova. Sono Ando, vengo da Paolo del Colle, sono del gruppo X Propaganda e mi occupo di comunicazione in due progetti di innovazione sociale che aprono nel territorio di Bari. Mi aspettavo decisamente quello che ci ho trovato. Dal laboratorio XYZ emergono tante belle sinergie ed era un po' questo che speravo di trovare. Dal laboratorio Y mi aspettavo in realtà tutto e niente, mi piaceva questa cosa che fosse un po' tutto da definire, deciso e da programmare, fare tutto su dei piedi al momento. Un sacco di relazioni, un sacco di persone interessanti e stimolanti, tanta roba nuova da scoprire e imparare. Ho trovato, credo, dei nuovi amici, dei nuovi collaboratori, ho trovato nuovi strumenti. Ho trovato tante nuove relazioni, ho conosciuto bella gente, ho scoperto nuovi punti di vista, di vedere le cose e è stato molto emozionante. Tanti stimoli, un bel ambiente, un bel senso di appartenenza e tanti virali. Sì, decisamente rifare XYZ. Sì, assolutamente. Assolutamente sì, ogni giorno la mia vita è per tutta la mia vita. Sì, assolutamente sì, ogni giorno la mia vita è per tutta la mia vita.